Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Patrizia De Blenck è un personaggio pubblico spesso ospite di diverse trasmissioni Ma quale drammatica malattia ha dovuto affrontare? Giovedì 21 aprile Patrizia De Blenck è stata ospite di Serena Bortone su Rai 1 nella trasmissione Oggi è un altro giorno Patrizia De Blenck malattia lacrima.E' arrivata nello shock con l'aiuto di due ragazzi e lei stessa ha raccontato di essere caduta per salvare i suoi amatissimi cani Ma quale malattia ha avuto? Patrizia De Blenck è la confessione sulla malattia Patrizia De Blenck è un volto conosciuto del mondo dello spettacolo nostrano Nel 2002 è stata ospite fissa nella trasmissione, Chiambretti c'è Tre anni dopo, invece, è stata tra i concorrenti del reality, Il Ristorante Nel 2008 si è distinta come naufraga all'Isola dei Famosi dove è riuscita a raggiungere la semifinale E' anche una scrittrice autrice della sua autobiografia Letto col diavolo Due anni fa ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per compiere un esperimento sociologico Li ha colpito gli spettatori grazie alla sua spontaneità, alla fine però è stata eliminata nella ventunesima puntata Ultimamente è apparsa a Avanti un altro. Pure di sera in qualità di concorrente, mentre qualche giorno fa è stata ospiti di Serena Bortoni In questa occasione ha raccontato come sua figlia Giada le abbia salvato la vita già in tre occasioni Ma quando ha rischiato la vita? Ecco cosa è successo.Salva per un soffio Patrizia De Blanc ha partecipato al Grande Fratello Vip del 2020 dove tutti i concorrenti hanno notato come avesse il volto deturpato con vistosi segni In seguito, durante un'ospitata a pomeriggio 5 aveva spiegato che cosa le era accaduto Nel 2018 aveva contratto la dacriocistite e aveva rischiato di morire Questa è un'infezione del sacco lacrimale e comporta l'ostruzione del dotto lacrimale L'ex Jeffina aveva dichiarato che l'estate prima aveva pianto molto per la morte del suo cane Le lacrime hanno fatto infezione, lei però ha asserito di non andare mai dal medico e così, trascurando la cosa la malattia è peggiorata Alla fine sua figlia Giada la costretta ad andare al pronto soccorso poiché il suo viso era diventato deforme Il medico che l'ha visitata le ha detto che se avesse trascorso un'altra notte così sarebbe morta per una meningite fulminante Le sue condizioni erano gravi, il pus era arrivato all'orecchio e stava per raggiungere il cervello Per fortuna però la nobile è stata soccorsa in tempo e ora sta bene Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao